Agi la torre Eiffel. Un monumento a simbolo di Parigi. È stata evacuata per un allarme A. La polizia sul posto con la squadra A ha detto un portavoce della sete della compagnia gestisce la torre. Aggiungendo che è a procedura abituale in questo tipo di situazione. Anche rara. L'evacuazione riguardava i tre piani tra cui il ristorante. Così come la piazza. Tra mezzogiorno e 13.30 tutti i visitatori erano stati rimossi. La torre è stata riaperta alle 15.30. L'ultimo allarme a prima di questo ritorno nel settembre 2020 è porto anche all'evacuazione per un paio d'ore della torre. Quindi scatto per una chiamata anonima alla polizia della presunta matrice islamista. Nel 2022 la torre ha accolto oltre 5 milioni e 800 mille visitatori.